investita nel MOSE e subito fondi per i danni. Il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, si avvia verso la riconferma nel biennio 2020-2022 con voto unanime. Il comitato esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana ha reintrodotto infatti la possibilità di effettuare quattro mandati. Patuelli è subentrato sei anni fa alla guida dell'ABI affrontando una fase difficile del sistema bancario, contrassegnata da fallimenti e inchieste giudiziarie. A lui va anche il riconoscimento del sindacato Fabi per le qualità di equilibrio e indipendenza.